Liberi.tv Riccardo Cristiano, primo Pride Cosentino in compagnia della Presidente dell'Archigay Basilicata. Come mai è importante essere qui oggi? È importantissimo perché i nostri diritti ancora non sono riconosciuti, manca ancora una legge contro l'omofobia e allora siamo qui anche a Cosenza perché abbiamo preso l'invito da parte del Presidente Silvio Cilento. Insieme ad altri Pride che ci sono oggi a Genova, Bari e a Palermo abbiamo preferito venire qua perché abbiamo ricambiato la cortesia e l'accoglienza che Silvio è venuto il 3 giugno a Potenza per il primo Basilicata Potenza Pride. Ci fai un augurio di buon primo Pride Cosentino? L'augurio da parte mia è caloroso quindi mi auguro che ce ne siano tanti altri come nel 2019 faremo un altro Pride a Matera. Quindi l'augurio a Silvio e tutto al direttivo Archigay Cosenza di questa bella giornata che è oggi piena di sole. Perfetto, Liberi.tv Riccardo Cristiano. Ciao! Grazie a tutti!